Ciao ragazzi, come va? Molto bene il mio sorriso che vedete in questo momento è un sorriso sarcastico perché se mi state intravedendo mezzo buio, mezzo no con me che mi sto guardando in questo momento me stesso e non sto guardando la telecamera non mi frega nulla della qualità di questo video perché questo qui è un video sfogo perché è appena successa una cosa che mi fa girare altamente i coglioni adesso vi vado a spiegare tutto perché non sono solito fare di questa tipologia di video però mi sono stancato di una cosa che è successa e adesso ve la vado a spiegare dunque voi sapete benissimo che io sono uno studente, mi sto laureando la magistrale di lettere sto ormai per terminare il mio percorso di studi e nel frattempo lavoricchio come commesso e a part time ovviamente vengono ogni tanto chiamato, quindi un contratto a chiamata possiamo dire sono fisso la domenica più durante la settimana chiamata se c'è bisogno quindi il mio stipendio non è chissà che, anzi fate voi i calcoli sulle poche ore di solito che faccio al mese se lavoro soltanto la domenica fate voi bene i calcoli dunque questo è ciò che faccio però mi fa star bene perché alla fine riesco a pagarmi gli studi nel frattempo quindi a me va bene così intanto che mi laureo nel frattempo voi sapete benissimo che mi diletto a fare video su youtube se mi state seguendo in questo momento lo sapete meglio di me magari perfetto, bene i video su youtube sapete che vengono monetizzati e non vi aspettate che il mio guadagno sia equiparabile al mio stipendio da commesso quindi vi ho appena detto che il mio stipendio da commesso è nulla figuriamoci quello con youtube anzi fino adesso non ho ancora ricevuto manca una lira praticamente da ottobre quindi è praticamente nullo possiamo dire ecco per farvi un esempio con tutti i video che avete visto che ultimamente stanno migliorando per quanto riguarda la monetizzazione quindi per le visualizzazioni ok da ottobre fino ad adesso non arrivo a fare un mese del mio stipendio normale ok così per farvi capire perfetto dopo questa premessa cosa è successo il video di che ormai ha raggiunto 650.000 visualizzazioni sono onorato di questo perché non mi aspettavo solitamente potesse raggiungere quelle visualizzazioni della punizione battuta al contrario quindi della storia dello zaire di Mbwepu ha raggiunto 650.000 visualizzazioni cosa è successo? mi è arrivato una mail per blocco di copyright da parte della fifa ok? niente proprio di meno che la parte della fifa ora la fifa fino adesso non mi ha rotto le palle per quel video lì appena ha visto che ha raggiunto tante visualizzazioni mi ha bloccato per copyright ok? mi ha bloccato per copyright quel video, quella monetizzazione non sono 650 euro ragazzi che tutti quanti dicono 650 euro no, non sono 650 euro dividete per un bel po' ok? però comunque dopo dello sforzo, del lavoro comunque te li danno cosa fai? Li buttili? Non li vuoi? certo che li vuoi vederteli bloccare un video che ha avuto questo successo vedertelo bloccare la monetizzazione da parte della fifa per cosa? per i 20 secondi in cui vi faccio vedere la punizione per quei 20 secondi lì mi hanno bloccato la monetizzazione cioè 20 secondi di video zoomato ok? in cui io zoomo il calcio di punizione va bene? quei 20 secondi lì loro mi hanno bloccato il video per monetizzazione adesso ho dovuto subito appena ho visto la mail ho dovuto fare immediatamente il video perché sono di un incazzato che non avete idea ma per il principio non tanto per i soldi perché nei soldi non mi importa nulla cioè nel senso lo sapete ho questo lavoretto quindi a me va bene è per il principio sono 20 secondi io parlo per 10 minuti voi vi siete rotti i coglioni per 10 minuti e non solo no dovete dare i soldi alla fifa cioè per quei 10 minuti lì date i soldi della monetizzazione alla fifa se neanche a me che ho fatto quei 20 secondi quei 10 minuti no alla fifa ok? per quale motivo? cioè io ho fatto un lavoro gigantesco dietro comunque di scrittura di arrangiamento dell'articolo degli articoli che ho visto di montaggio eccetera ho fatto un lavoro di 3-4 ore il mio solito lavoro cioè non è un lavoro dove devi spaccare la schiena ci sta ok tutte queste menate qui lo sapete però comunque hai fatto una cosa quindi se ti arriva qualche soldino anche rispetto alle altre volte in cui non ti è arrivato mai niente ci sta no? sei contento se te lo vanno a bloccare in questo modo per 20 secondi ti girano i coglioni perché non solo cosa succede? mi hanno bloccato già in passato il video di Italia-Corea bloccato per monetizzazione 100.000 visualizzazioni bloccate perché faccio vedere alcuni spezzoni della partita ok? girato tra l'altro ok? spezzoni girati va bene? quindi neanche l'intera partita a specchio ok? quindi qualcuno di voi si è anche lamentato di questo bloccato va bene bloccato il video del grande Torino per 3 frame in cui si vede una serie tv 3 frame bloccato la monetizzazione completa di quel video adesso non mi ricordo quello di Maradona alla mano di Dios bloccato per la monetizzazione oppure mi era stato bloccato il video del di Robin Friday e l'ho dovuto reinserire dopo che aveva fatto 40.000 visualizzazioni l'ho dovuto reinserire e per fortuna aveva fatti altri 25.000 quindi cioè ragazzi è assurdo è assurda questa cosa di YouTube comunque in generale di come funziona la monetizzazione su come funziona il copyright in Italia perché è incredibile il fair use dov'è? cioè io sto utilizzando 20 secondi di una partita di un calcio di punizione avvenuto 43 anni fa ok? di un mondiale in Germania ok? non mi ricordo neanche più se era in Germania no vabbè comunque di un mondiale del 74 quindi di 40 anni fa voi mi bloccate per quei 20 secondi l'intera monetizzazione cioè neanche un pezzettino l'intera monetizzazione questo così funziona in Italia YouTube cioè vi rendete conto e in tantissimi di voi mi dicono perché non metti le immagini di qua perché non metti le immagini e non vedete adesso magari anche i prossimi video quello del Milan contro Liverpool mi possono bloccare con tutto che è zoomatissimo cioè non si vede neanche il gol con tutto così mi possono bloccare per copyright perché è proprietà della FIFA è proprietà della FIFA ovvio qualsiasi partita è proprietà della FIFA e allora io parlo per 20 minuti metto solo delle foto a caso magari e allora questo va bene no così così mi girano i coglioni altamente e poi lo sapete io lo faccio per diletto a me non importa tanto dei soldi quello non è quello comunque se mi porta a voi iscritti e visualizzazioni io sono contentissimo non è quello è il principio perché bisogna dare i soldi alla FIFA per 20 secondi è il lavoro mio cioè allora dividiamo la monetizzazione si divide la monetizzazione un po' alla FIFA e un po' a me o monetizza per 10 minuti io faccio vedere 20 secondi di una cosa ti monetizzi se ho tanto a 20 secondi non lo so ragazzi io ho dovuto sfogarmi perché davvero io non ne posso più di come va YouTube in questo modo cioè del copyright ho fatto già reclamo ma tanto me lo bocceranno sicuramente ho richiesto più e più volte anche al mio network per cose di questo tipo mi hanno sempre detto non devi utilizzarle le immagini ma come non devo utilizzare le immagini allora che cavolo faccio a fare le storie del calcio cioè perché magari anche lo stesso Federico Buffa quando racconta le cose le racconta con le immagini io non lo posso fare cioè sono disposto anche a pagare come si dice la CI quelle cose delle immagini sono disposto a pagarle quanto viene se ogni video mi fa 30 euro per dire ok e la CI costa 10 e vabbè diamo sti 10 euro la CI per l'utilizzo del copyright e guadagniamoci 20 euro in realtà no? sono numeri a caso per farvi capire però così l'intera monetizzazione a loro per 20 secondi non ha assolutamente senso perché sono solo immagini andatevele a vedere è proprio l'immagine dall'1.18 se non ho moderato a 1.36 del minuto della punizione battuta al contrario quelli ok? quello non so cosa dire ditemi voi ragazzi perché io sono talmente incazzato che sono abbastanza perplesso su cosa puoi portarvi adesso si spento tutta la luce della macchina porca miseria ecco sono tornato non so cosa è successo però avete capito bene com'è l'antifone niente ragazzi allora scrivete un commento qui sotto magari anche tanto per dirmi cosa ne pensate a riguardo e io questo video l'ho fatto anche per farvi capire che dietro ai video di storia del calcio c'è da fare un lavorone perché c'è da zoomare da fare in modo che la fifa non rompa le scade perché io rischierei anche il blocco del canale per copyright quindi non è tanto soltanto per la monetizzazione ma anche per il blocco per lo strike sul canale scrivetemi allora voi in un commento qui sotto cosa ne pensate a riguardo e se avete dei modi anche voi se avete video su youtube se fate video su youtube su come scampare a queste cose io non so cosa dirvi se nei prossimi video magari vedrete più immagini normali proprio foto che video avete capito come mai ora cercheremo di parlare con il network e anche con youtube vediamo come saltarci fuori grazie mille per aver visto questo video ragazzi scusatemi per la qualità video però so che soltanto mi ascoltate quindi ciao da papirus scusate ragazzi grazie grazie